Tecnocam sulla statale a Piancamuno. Oleodinamica, pneumatica e forniture tecniche industriali. 545.000 sac raccolte nel 2019. Questo è il dato che testimonia il positivo andamento di donazioni degli ultimi anni, confermando alla Lombardia, che contribuisce per circa il 20% in termini di donazioni sul sistema nazionale, il primato nella raccolta di sangue e emocomponenti. In Lombardia, l'Avis, ha contribuito a donare 466.705 delle 545.000 sacche raccolte dal sistema trasfusionale Lombardo, coordinato dalla REU, contribuendo così all'85% del sangue raccolto. Un impegno costante, condiviso da tutte le 648 sezioni comunali, coordinate dalle rispettive 12 sezioni provinciali, che grazie al loro lavoro apportano un forte contributo nel garantire l'autosufficienza alla Regione. Basti pensare che il 40% delle sacche di sangue e il 30% di plasma raccolti provengono dalle unità di raccolta associativa dall'Avis sul territorio, in convenzione con gli ospedali della Regione. Questi numeri, afferma Oscar Bianchi, presidente dell'Avis regionale Lombardia, ci rendono orgogliosi, ma ci spingono anche ad impegnarci ogni giorno di più con l'obiettivo di avvicinare sempre più giovani alla cultura del dono. Secondo la REU, nel 2019, i donatori lombardi che hanno effettuato almeno una donazione sono stati 259.087. I aspiranti donatori sono più di 34.000, di cui quasi 11.000 sotto i 25 anni. In Lombardia la raccolta del sangue intero è di circa 465.000 unità, di cui quasi 16.000 sono state donate ad altre regioni. In aumento anche la raccolta di plasma, nel 2019 infatti, sono stati prodotti complessivamente 179.000 chili di plasma, plasma che è fondamentale nella cura di diverse patologie rare per la produzione di farmaci salvavita e che si è rivelato una grande opportunità terapeutica anche nella lotta al Covid-19.